Musica Buonasera, io sono Daniele Patti del ristorante dello Scudiero questo oggi abbiamo preparato calamaretto spillo ripieno di calamaretto, mango, cetriolo, ai semi di finocchio e maionese di bottarga e lime i calamaretti sono i calamaretti del mare adriatico che vengono puliti uno ad uno e vengono eviscerati e recuperiamo la testa che a parte la battiamo la scottiamo in padella con un fondo di olio, aglio e peperoncino li facciamo, li frulliamo al bimbi inserendo pan grattato, un po' di formaggio e buccia di limone con questo ripieno andiamo a riempire uno ad uno i nostri calamaretti li infilziamo nel classico spiedino del nostro territorio che poi andranno cotti al carbone conditi con un po' di olio, aglio, sale e pepe a parte prepariamo una maionese con all'interno bottarga e buccia di lime l'insalata che abbiamo preparato per accompagnare il piatto è formata da due ingredienti principali uno è il mango che ci va a dare dolcezza e l'altro è il cetriolo il cetriolo a sua volta viene condito con semi di finocchi tostati, sale maldon e olio questo serve a dare un'acidità e un contrasto importante al piatto questo calamaretto ricorda un po' le mie origini, la mia infanzia quando mia mamma preparava i totani ripieni tipico piatto siciliano che interpretiamo in questa versione inseriamo anche un po' di fiori di aglio per dare appunto quel sapore territoriale che ci contraddistingue marchigiano, romagnolo, adriatico buona serata e questo è il mio piatto con calamaretto ripieno di calamaretti, mango, cetriolo e semi di finocchio e maionese al lime buona serata Grazie.